Il gioco siamo abituati a vederlo d'estate e invece quest'anno grazie alla collaborazione tra il comune di Monte San Savino e l'Associazione Culturale Il Gioco ci sarà una bella stagione al San Prospero di Montagnano per l'intera stagione invernale. Quest'anno per la prima volta in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Gioco abbiamo creato il gioco d'inverno e porteremo degli spettacoli di teatro popolare nel Teatro San Prospero di Montagnano che è Montagnano la sede naturale del gioco. Faremo uno spettacolo al mese a partire da gennaio e insomma saranno tutte commedie in dialetto. Un'iniziativa sicuramente che sarà molto amata dal pubblico visto che le compagnie che fanno teatro locale e dialettale sono molto molto apprezzate. Una bella stagione complessivamente che animerà i mesi invernali.